Direttore Sorgi, con il progetto Status parliamo di agende urbane integrate e sostenibili. In sostanza? Sì, il progetto Status è un progetto di cooperazione territoriale dove la Regione Abruzzo è partner e utilizziamo questo strumento, questo progetto a quale partecipiamo per affiare attività di sviluppo urbano e territoriale sostenibile come veicolo per quanto riguarda la condivisione e la partecipazione del territorio. Abbiamo fatto un precedente evento in provincia di Teramo per quanto riguarda la presentazione di un progetto sul contratto di fiume che si sta sviluppando lungo il Tordino. In questo caso invece è l'occasione per discutere delle linee guida della programmazione unitaria che sono state approvate di recente dalla Regione Abruzzo e conseguentemente poi le ricadute sugli aspetti territoriali. In questo caso le linee guida che sono state approvate dalle quali poi si declineranno i vari POR, i piani operativi regionali che inizieranno tra poco a riavviare i tavoli partenariari, hanno quattro elementi, quindi le cardini sulla quale si sviluppano sul territorio. Uno sono le aree urbane, l'altro le aree interne, l'altro i contratti di fiume e l'altro ancora è le aree di crisi. Quindi su questi quattro elementi oggi si svilupperà un primo dibattito, una presentazione e poi un primo confronto con il partenariato, in questo caso molto ristretto, ma poi sarà allergato nella definizione dei quattro POR.